Devo dire che questa squadra sta crescendo, credo che sia la prestazione e la vittoria più convincente delle ultime per l'atteggiamento di squadra. Il fatto di aver concesso poco agli avversari e stando costantemente, quando possibile, nella metà campo avversaria dando grande pressione, i due gol sono venuti da riconquista palla nella metà campo dell'Udinese. Questo deve essere il nostro marco di fabbrica. Io credo che le vittorie aiutano, però a me la squadra è piaciuta perché il fatto di creare tante situazioni come abbiamo fatto oggi è capitato anche in passato. Sicuramente prima non le chiudevamo, non facciamo gol, però il volume di gioco credo sia stato sempre importante. La differenza sta in quello che abbiamo concesso agli altri, molto meno rispetto al solito, nonostante giocando con due mediani dove eravamo un pochino meno abituati, spesso può capitare con questo sistema di gioco di trovare qualche palla di troppo tra le linee. Quando si appiattiscono i due mediani è quello che ci può creare qualche difficoltà, però nell'interpretazione generale la squadra sta crescendo e deve ancora migliorare sicuramente se vogliamo ambire a passare prima di tutto il turno di Champions e arrivare terzi in campionato. Devo dire che è stato un intervento legato a una guardalina che aveva dato prima il fallo di qua, poi di là i giocatori si sono un attimo fermati, su un fallo laterale abbiamo preso un'occasione assurda, per quello siamo stati poco attenti, ma al di là delle parate, Alison ha la qualità di avere una presenza importante e una grandissima personalità. Credo che in questo momento sia uno dei migliori portieri che ci sia in circolazione e di questo noi ne siamo molto contenti.